Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Tra una discussione e l'altra Floriana Secondi l'ha detto veramente La sua frase sta spopolando sui social e conquistato tutti. Ecco che cosa è successo . Era una delle concorrenti più attese dell'Isola dei Famosi e l'ex Giaffina non sta deludendo le aspettative . Riuscendo ad attirare su di sé sempre una grande attenzione da parte del pubblico del reality show che è rimasto folgorato dalla frase che ha detto la naufrago Floriana Secondi si sta rendendo la vera protagonista della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Erano in tantissimi che aspettavano un suo ritorno in un reality show, dopo il trionfo nella terza edizione del Grande Fratello E sono stati tutti accontentati visto che la naufraga romana sta regalando grande spettacolo in Honduras In queste prime settimane di programma, Floriana di certo non si è lasciata trasportare dagli eventi, ma ha creato diverse dinamiche che hanno movimentato un po' la vita dei concorrenti dell'Isola La prima litigata c'è stata con Antonio Zecchila, che è stato il primo eliminato del reality show La seconda discussione invece ha avuto teatro con Marco Melandri Proprio durante il litigio con l'ex motociclista italiano, si è lasciata andare ad una frase che immediatamente ha attirato l'attenzione del pubblico che si è riversato su social Isola dei Famosi, la frase di Floriana Secondi conquista tutti I primi giorni di Floriana nell'Isola non sono stati particolarmente facili, visto che ha dovuto convivere con Antonio Zecchila Le cose però sembrano continuate ad essere frizzantine anche dopo l'uscita dell'attore, visto che l'ex Geffin ha continuato ad essere protagonista di scontri accesi Uno di questi c'è stato con Marco Melandri, il secondo eliminato dall'Isola dei Famosi Durante la discussione su Playa Sgamada, la seconda ha detto una frase che è stata accolta con grande trionfo da parte dei social Iar Focolo poi spegne l'acqua non s'accende non to scorda mai, ha detto l'ex Geffina in romanesco mostrando tutta la sua simpatia Inutile dire che i social sono scoppiati dopo questa affermazione, dove in molti la vogliono già in finale per le dinamiche che crea durante le giornate sull'Isola Quello che è certo è che adesso Floriana affronterà nuove situazioni visto che è tornata su Playa Coppiada, dove adesso fa coppia con Clemente Russo dopo aver vinto la prova del serpente hondureno In tantissimi adesso non vedono l'ora che ci sarà il primo confronto tra due concorrenti di razza, ovvero Floriana e Gwendalina Tavassi, anche lei una delle più attese tra il pubblico del reality show insieme al fratello Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video